Ciao ragazzi, sono Femme Maruri e siamo al tetto video di oggi Proverò Webstar Saga con mia madre Vorrei salutare in questo video Michele Fregono, Rumi Stomei, Filippo Grossi e Stefanoli Vado a scegliere Golden Jumpy Non si fa scegliere nessuno? Perché non funziona più? Ragazzi l'abbiamo scelto lo youtube Golden Jumpy Faccio un buio e un buio a mia madre Toccate ora Vai schiacci, schiacci, schiacci prima che finirmo il tempo Vai, 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 vai Oh, perché sono scelta? Che stai a fare, stai a schiacciare tutti qui Oh, mi diceva lo stesso Mi imbroglio che devo schiacciare Eh Ma poi dopo ragazzi facciamo un altro round se il video è troppo corto Useremo Frafrog Ecco, abbiamo perso infatti Per non... Perchè siamo durati troppo poco Ecco qua Ma non lo userà Frafrog all'inizio Ancora? Eh sì, tu Tu non l'hai usata prima Hai usato Peppe Gentile, mi ricordo Prima, raga, prima di cominciare questo video Avevamo usato Peppe Gentile Ma avevamo perso E infatti facciamo schifo tutti i kid Ma no, sta ancora durando, sta ancora attendo Ma perchè mi si sposta le immagini? Perchè fai schifo E quindi raga, ci vediamo al prossimo video, ciao E quindi raga, ci vediamo al prossimo video, ciao Ciao